Ecco, che introdurrò dopo le feste, ok? Quindi, poi leggetelo se vi va, però questo è un po' il punto. Ci sarà lunedì, parto alle 21, cambierà l'orario, quindi non partirò più alle 21.45, ma parto alle 21. Parto prima, ok? Tra l'altro questa scelta che io ho fatto semplicemente per non far diminuire le mie ore di just chatting, ma per mantenerle praticamente identiche al palinzato che c'è attualmente, mi ha ricevuto dei feedback estremamente positivi su delle realtà a cui non avevo pensato, delle dinamiche a cui non avevo proprio pensato. Persone che mi hanno detto innanzitutto che possono godersi le live, tutte al completo, perché così non devono fare necessariamente tardi partendo io alle 21.45. e poi col giorno di pausa centrale la gente recupera il VOD o i contenuti che si è perso il giorno prima. Io non ci avevo pensato a questa strozzata, sinceramente, e sono contento, cazzo. Sono molto molto contento. Bene, meglio così, non volendo vi ho fatto un favore, tra virgolette, un favore, una sega, però insomma vi sono venuto incontro, non ci avevo pensato, grazie di questo feedback. Comunque, le 21, random, reaction, uguale alle 22.30 Cinema Cult, quindi si inizia bene la giornata, la settimana, alle 23.30 Momento Mario, che può essere Tane Scout, la reaction, tipo quella di Surry e della roba anale, eccetera, eccetera, e poi gaming a mezzanotte. e 30.30 Martedì, pausa, mercoledì dalle 21 alle 3, sempre intervista esclusiva alle 21, tra l'altro possono venire molti più ospiti, perché le 21.45 fanno un po' più specie delle 21, fino alle 3, fino alle 3, ragazzi. Zodi, Dario e Willi, e alle 23 Tomodashi. si gioca. Poi, gaming normale, Tomodashi se va a lunga, oppure gaming normale. Venerdì, invece, Radio Tomodashi, come al solito, NER Cultura, e poi gaming con Nanni, quindi ho cambiato il momento Nanni, che era più una chiacchiericcia con Nanni, faremo proprio delle run insieme, e chiacchiereremo. Quindi è un just chatting, mentre cazzeggiamo con una run a un gioco che ci va. E dato che Nanni è fissato col giocare, ho detto, sai Nanni, cazzo ce ne frega, giochiamo. Giochiamo, facciamo quello che ti piace. La domenica, Cartoon News, Reddit, ovviamente alle 22, quindi l'orario del Reddit super giù non cambia, Box Break, e poi a mezzanotte, dato che lo avete sempre apprezzato, chiacchiere notturne, cioè chatting, chiacchiericcio, a fine settimana, proprio nel relax. E poi gaming. Va bene? C'è tutto. Non manca praticamente niente. Perché con delle strategie un po' furbine sono riuscito a inserire tutto e... Basta. C'è tutto. Nei giorni dove faccio pausa, io non faccio pausa, io faccio pausa da Twitch, ma mi occupo di altre cose. Diciamo che il giorno dove faccio festa è il sabato, veramente dove non penso a nulla, anche se mi è difficile ultimamente. Basta. Come vi avevo detto, ragazzi, vi avrei ridato tutto e vi ho dato tutto. E non dico mai cazzate da questo punto di vista. Peccato per le chiacchiere con i sub su Discord. Vabbè, se è fatto due volte, basta. Dopo le ferie, dopo le ferie, scusate, dopo le feste, lo introdurrò. Tanto farò delle storie, lo capirete. Ok? Piano piano ci riabitueremo. E vi assicuro che le cose a cui sto lavorando e che stiamo facendo, perché non sono da solo a lavorare queste cose, a parte panini, che è una cosa enorme, anche se panini e non solo ci tengono sempre a ridimensionare le mie idee, perché sono idee da sognatore e non da persona che poi deve fare i conti con i diritti, copyright, tanti tanti cazzi. Però non vi preoccupate, sono belle, belle, belle. E non vedo l'ora di rivelarvele. Perché sono belle. Sarà un 2024 molto, molto intenso e particolare per me, credo. Quindi vedremo. Ok? Basta.